ciao ieri dicevo alcune cose molto importanti dicevo che è fondamentale trovare 30 secondi nella tua giornata 30 secondi per fermarti per respirare la vita e per sentirti fermo allora io cosa faccio sempre di più metto in pratica quello che dico allora oggi mi sono fermato e ho deciso di farlo in un luogo nuovo perché perché anche ieri avevo fatto un brevissimo video dove dicevo una seconda cosa dicevo che bisogna spostarsi per cambiare di prospettiva per vedere la vita da un'altra prospettiva e dunque quello che è il paesaggio tuo di ogni giorno se lo guardi a partire da un altro punto da un'altra parte lo vedrai diverso e dunque ho deciso di fermarmi in un punto dove di solito non mi fermo mi sono dunque seduto qua allora tu puoi fare la stessa cosa secondo me ti fa del bene a guardare i miei video questi video questi video li faccio solo io non c'è nessuno nel mondo che fa questi video e difatti sono il numero uno di questi video nessuno può fare un video come lo faccio io nessuno ti può dare quell'input che solo io posso darti perché iscriverti al mio canale perché sono l'unico che può fare un video come questo ci sono molti youtuber molte persone che pubblicano video e video ma i miei video ti portano al cambiamento i miei video ti portano a te permettono a te di fare il punto sulla tua vita a volte di mettere un punto finale oppure una lettera d'inizio quello che è sicuro è che dopo aver guardato un mio video qualcosa in te è cambiato nelle nuove connessioni neuronali sinapsi si sono create se è entrato in una nuova dimensione esageriamo siamo esagerati davvero datti il potere di cambiare perché hai visto un video perché ti ha stimolato ti ha restimolato ti ha colpito ogni mio video colpisce il bersaglio al centro ogni volta e questa è la conferma fondamentale di quello che io sto dicendo quando due anime quattro anime attraversano come poco fa davanti o dietro a me che conferma più grande potresti avere e mentre tu lo pronunci l'orologio segna 0404 una conferma sulla conferma questi video tienili con amore dentro di te perché aprono la porta non solo a te ma anche a molte molte altre anime tu sei un privilegiato ma tu questo video te lo sei meritato haug ti abbraccio forte ti dico a presto per una prossima follia ciao ciao